Merry Christmas è un film del 2001 diretto da Neri Parenti, ennesimo film del semifilone dei cinepanettoni. In questo film abbiamo nuovamente i due personaggi principali che sono interpretati rispettivamente da De Sica, Christian ovviamente, e Boldi, Massimo. I due sono genitori e mariti. Il personaggio di De Sica, in realtà, per la verità, è fin troppo genitore e fin troppo marito, e lì infatti è un bigamo. Conduce quindi due vite parallele. Lui che ha la possibilità di viaggiare tanto, essendo un comandante di aereo, se non mi ricordo male, e quindi ha la possibilità di viaggiare tanto e avere di fatto due famiglie, una con selvaggia e una con serena. Quella con selvaggia con figlio appresso e quella con serena con figlio appresso. Ci sarà l'occasione per questi di finire catapultati, in qualche modo, così come, d'altra parte, il personaggio di Boldi, che in realtà si porta appresso il futuro marito di sua figlia, interpretato da Enzo Salvi, ad Amsterdam, presso un hotel. Sarà questa l'occasione per metterli in crisi, questi due gruppi fondamentalmente. Perché questo? Perché abbiamo un Boldi che non riesce a sopportare il futuro marito della figlia e che spera, in qualche modo, molto probabilmente, di mettere i bastoni fra le ruote al futuro sposo e al tempo stesso di dimostrare alla figlia che lui non merita di essere appunto il marito di lei, e al tempo stesso abbiamo invece il personaggio di Lesique che cercherà di destreggiarsi fra le due famiglie. Due famiglie che però, soprattutto per via dei figli, capiterà che a un certo punto, molto probabilmente, vadano ad incontrarsi, anche troppo. Questo film sicuramente è, per certi versi, spiegato da me, poi figuriamoci un pochettino ancora di più, uno di quelli più anonimi, molto probabilmente, per quanto riguarda la trama di partenza di questo film, anche per questo filone. E sinceramente è stata, per quanto mi riguarda, una delle visioni più anonime, in realtà, e trascurabili di questo filone. Anche accettando i vari alti e soprattutto bassi che ci sono stati nel corso delle visioni di questi cinepalettoni. Perché questo? Perché di fatto questo è un film che tendenzialmente fa molto poco ridere. È abbastanza piatto, in generale, il film di neri parenti, secondo me. È un film questo che, per certi versi, ha alcuni elementi che riescono, tutto sommato, a rendere il tutto un pochettino più divertente, sempre sperando di riuscire a trovare quel tipo di comicità che piace al pubblico, ovviamente. Ad esempio, per quanto mi riguarda, malgrado io non sia stato all'epoca uno dei grandi appassionati di questo duo comico, ho avuto modo di divertirmi molto con i fichi d'India. Bruno e Max, che in questo film, di fatto in qualche modo, fanno una sorta di pubblicità a loro stessi, inevitabilmente, hanno infatti l'occasione, ad un certo punto soprattutto, di usare alcuni dei tormentoni tipici, appunto, delle loro produzioni, dei loro sketch, dicevo, Bruno e Max sono due vecchini, di fatto, due impresari delle funeburi che si trovano, anche loro, in questo hotel di Amsterdam, infatti, perché questo? Perché devono, in qualche modo, consegnare le ceneri di un defunto ad una signora, in cambio ricevere un assegno. A un certo punto, però, perderanno queste ceneri e si ritroveranno a dover cercare, in giro per l'hotel, le ceneri che avevano nascoste in un urna, in un vaso, anzi, che verrà confuso con i tanti altri vasi presenti in questo albergo. Parallelamente, se vogliamo, abbiamo i personaggi di Enzo Salvi, in realtà, che è il futuro sposo della figlia di Boldi, in realtà, che però, sinceramente, così come non l'ho apprezzato in film precedenti, non l'ho particolarmente apprezzato neanche in questo, malgrado comunque il suo personaggio, in realtà, ne risulti, di fatto, in maniera positiva. Perché, malgrado i tentativi di Boldi, alla fine dimostrerà di essere, al di là, magari, di una facciata particolarmente esasperante per chiunque ha a che fare con lui, in realtà, comunque, è una persona di buon cuore, di tutto sommato. Comprensiva, magari non perfetto, però, alla fine, poteva andare a perdito sommato. Abbiamo poi il frangente di Lesique, il frangente di Lesique, in cui abbiamo Selvaggia e Serena, due mogli completamente diverse l'una dall'altra, e abbiamo i figli corrispettivi, appunto, la figlia e il figlio. Ci sarà l'occasione, per entrambi, di cercare in qualche modo di uscire da quella comfort zone familiare, appunto, lei che cercherà di sfuggire in qualche modo alle pressioni paterne per rimanere, appunto, nell'ambito domestico, hanno entrambi, se non sbaglio, 16 anni circa, e questa è l'occasione per lei di cercare in qualche modo di uscire, appunto, dalla sfera protettiva, iperprotettiva paterna, e al tempo stesso, invece, il personaggio di Lesique, così come cerca di limitare la ragazza, cerca invece di spingere il ragazzo a conquistarne a più non posso. Ad un certo punto ci sarà la possibilità, forse però, che i due si siano conosciuti, anche molto intimamente, e questo ovviamente getterà in crisi il personaggio. Complessivamente, questo film poi ha alcuni momenti comici abbastanza sullo stereotipato, inevitabilmente, e soprattutto, che puntano su quella che è la comicità legata a un certo tipo di immaginario tipico, probabilmente, di quegli anni, in realtà, riguardo all'omosessualità, con ad esempio il personaggio del Concierge, in realtà. Il personaggio del Concierge, interpretato da Fabio Hitz, che in realtà, sinceramente, è di fatto una macchietta, una macchietta esasperata, più non posso, che, per quel po' che si vede, in realtà, sommato, in alcuni momenti, fa anche ridere. Però, nel complesso, è tutto quanto il film, secondo me, che non è particolarmente appassionante dal punto di vista comico. Perché, al di là di alcuni momenti, appunto, che per quanto mi riguarda, sono quelli legati principalmente ai fichi d'India, ad esempio, quando si mettono a fare, con questo loro estro creativo del riuscire a camuffarsi, eccetera, addirittura, una sorta di parodia di Dragon Ball, che è stata un'istituzione assolutamente, forse ancora, per Italia 1, gruppo media, eccetera, quant'altro, in realtà, complessivamente, questo film non riesce a far divertire chissà quanto, quantomeno, il sottoscritto. Questo perché le varie gag legate ai ladri, le varie gag legate ai piercing, le varie gag legate al fatto di ritrovarsi ad un certo punto in mezzo tra le due mogli per quanto riguarda i personaggi di Esika, oppure i vari tentativi, sporcaccioni fondamentalmente, di boldi di mettere in casino i personaggi di Salvi, tutto quanto è un po' anacquato. Un po' anacquato e alla fine lascia poco lo spettatore per quanto può essere lasciato al termine di una visione del genere. una visione del genere che per quanto mi riguarda è molto modesta. Una visione modesta che anche nella totalità diciamo dei film di questo filone che ho potuto vedere fino adesso in realtà mi ha lasciato di fatto abbastanza indifferente. Alcuni momenti ci sono stati, questo sì, persino il fotogramma in finale in realtà mi ha strappato un sorriso, un buon sorriso anche abbastanza divertito per certi versi, per quanto la gag fosse assolutamente telefonata molti minuti prima in realtà. telefonatissima in realtà anche la rivelazione per quanto riguarda la poligamia a questo punto che non basta più dire bigamia per quanto riguarda il personaggio di Jessica e in generale non sento di poter consigliare particolarmente questo film. Se siete appassionati di questo filone lo potete vedere molto probabilmente comunque ve lo dimenticherete altrimenti se volete vedere un film rappresentativo in realtà del meglio per quanto possibile di questo filone sinceramente non mi sento di consigliarvi questo Merry Christmas che secondo me rimarrà tendenzialmente un risultato molto modesto nel complesso di un filone che sicuramente ha dei bassi che fanno affossare in generale l'attenzione allo spettatore e sono estremamente repetitivi in realtà ma che comunque ogni tanto qualche altro ce l'ha e secondo me questo film non è uno di essi nel caso quindi lasciate perdere via uguale.